come nasce il protagonista di un romanzo. Esistono diversi modi per creare i personaggi della vostra storia. Ogni scrittore trova le proprie astuzie e le proprie tecniche. Ci sono dei personaggi che sentono di più l'esigenza di avere delle connotazioni fisiche, di essere descritti e per questo io vi consiglio di guardarvi intorno e di rubare dalla realtà e dalla fisicità delle persone che più vi incuriosiscono o che magari più avete a cuore e di donarla ai vostri personaggi. Dall'altra parte ci saranno dei personaggi che arriveranno con una tale forza e una tale personalità che questa esigenza di essere descritti non l'avranno per niente. Ad esempio di questa categoria io vi porto Sandra che è la mamma della famiglia che descrivo nel mio ultimo romanzo Non volare via e che è una donna talmente forte, talmente preoccupata, talmente impattante nella sua personalità, nei suoi gesti, nelle sue azioni e nelle sue reazioni che io sono arrivata alla fine di tutta la storia senza mai descrivere come fosse fatta fisicamente. E sono convinta che com'è Sandra me lo restituiranno i miei lettori. Nella prossima puntata vi svederò un piccolo segreto, ovvero come inizia un romanzo.